Lo piangeremo insieme con loro. Ringraziamo il Signore che ci ha dato la vita e dato la morta. E' Lui che comanda in tutto e tutto torna a Dio. E per queste morte gli auguriamo un posto al paradiso con l'aiuto di Dio. Un Dio che è di tutti chiaramente. Il Signore è di tutti, non è che c'è differenza. Dio è... si cambia il nome ma Dio è sempre Dio. È uno unico. Queste ragazze cosa si aspettavano? Cosa si aspettano tutti quelli che arrivano qui nell'Occidente? Sono gente che cercano un buon futuro. Però il destino nasconde troppe cose. Noi i vivi dobbiamo avere il cuore dei vivi. Così non ci succedano queste disgrazie. dobbiamo essere troppo forti per dare aiuto a tutta l'umanità. Perché apparteniamo sempre a un solo uomo. E quello è Adam. Sparten è lingua ma siamo tutti fratelli. E quali sono le parole per dare conforto in questo momento? Dobbiamo essere forti, uniti. Questo è necessario. Non si spartano i colori, non si spartano le lingue, ma anche la religione. Perché apparteniamo a un suo nome, a quello, è Adamo. Siamo scendenti di Adamo e siamo fratelli tutti quanti.